Il comandante delle Frecce Tricolori, Gaetano Farina, che oggi in Fondazione Friuli ha presentato il progetto Frecce Tricolori a scuola, che partirà il 21 gennaio e arriverà in otto istituti del Friuli Venezia Giulia, in particolare nelle province di Udine e Pordenone. Di cosa si tratta, comandante? È un'iniziativa, grazie alla Fondazione Friuli, attraverso la quale le Frecce Tricolori si raccontano agli studenti. Quindi abbraceremo otto scuole, otto scuole partendo da Tormezzo per arrivare giù, fino a San Vito al Tagliamento, a Casarsa, fino all'Indiano. Quindi abbraceremo tutta la regione, le scuole della regione e ci racconteremo, non faremo altro che raccontare chi sono le Frecce Tricolori. E allora quali saranno i valori che le Frecce Tricolori cercheranno di insegnare ai ragazzi? Perché di questo si parlerà, di valori, di stile di vita, raccontando appunto la vostra storia. Noi racconteremo la nostra storia, racconteremo come passione, dedizione, voglia di lavorare, di raggiungere il dominato obiettivo, porta poi a quegli obiettivi. Come ognuno di noi è cresciuto avendo un sogno nel cassetto, noi cerchiamo di essere l'esempio per i ragazzi, essere l'esempio su come impegnandosi, mettendoci passione in quello che si fa, si possano raggiungere degli obiettivi. Ovviamente l'obiettivo non deve essere quello di diventare un pilota di Frecce Tricolori, ma qualsiasi sogno. Ogni ragazzo che studia nelle scuole ha, attraverso dedizione, passione, un pizzico di fortuna, questo può essere raggiunto. Questo è un anno molto particolare per le Frecce Tricolori perché si festeggiano i 60 anni del corpo acrobatico. Quali sono i festeggiamenti previsti? Quali sono gli eventi in programma? Beh, sicuramente il 2020 sarà un anno impegnativo per le Frecce Tricolori. Parteremo con questo primo impegno, quello di raccontarci nelle scuole, che partirà proprio il 21 gennaio. Sarà un anno molto lungo, un anno in cui la base di rivolto del secondo stormo ospiterà una tappa del Giro d'Italia, una tappa frirana del Giro d'Italia, quindi ci sarà la partenza di una tappa del Giro d'Italia all'interno del nostro poporto, del secondo stormo di rivolto. Quest'anno festeggeremo la sessantesima stagione acrobatica delle Frecce Tricolori, il 19-20 settembre 2020, ci saranno due giorni di manifestazioni con pattuglie acrobatiche estere, con assetti dell'Aeronautica Militare e assetti delle altre forze aeronate. Quest'anno, il 2020, è una data molto importante anche per l'Aeronautica Militare, in quanto si festeggiano i 100 anni della programmazione della Vergine Lauretana, della Madonna di Loreto, come protettrice degli aeronauti. Un'iniziativa benefica, chiamata un dono dal cielo, con cui l'Aeronautica Militare raccoglie dei fondi da devolvere poi a tre ospedali pediatrici del nord e del centro del sud. Quindi un anno particolare, un anno in cui ricorre anche il decimo anniversario dalla nascita di questo progetto che vede appunto le Frecce Tricolori impegnate nelle scuole del Friuli Venezia Giulia. Quindi grazie mille al comandante e grazie a Fondazione Friuli che organizza questo progetto. Grazie a voi.